Un progetto pilota per riqualificare 17 chilometri di litolare abruzzese e dei grandi alberghi di Montesilvano a Francavilla Foro, toccando le spiagge di Pescara ingoiate dall'erosione, gli scarichi a mare, i marciapiedi e i tratti di pista ciclabile inesistenti o in pessime condizioni, i 250 titolari degli stabilimenti balneari si sono detti pronti ad investire 30 mila euro a testa per rilanciare l'immagine di questo tratto di costa. Su Fosso Mazzocco è previsto la costruzione di un pontile che contiene all'interno l'intubamento dello stesso scolo, successivamente realizzeremo prospicente la Stella Marisi, la riqualificazione delle scogliere, la costruzione di un progetto nuovo che parte dai grandi alberghi fino all'altezza di via Marinelli, a questo aggiungiamo anche il potenziamento dei marciapiedi di Montesilvano, sulla città di Pescara ci sarà la risagomatura di tutte le scogliere esistenti e la costruzione di circa cinque parcheggi sul territorio di Pescara, due su Pescara Sud e tre su Pescara Nord. Questo significa che noi entriamo all'interno dell'amministrazione comunale ponendo questa nostra idea progettuale e pagandola. Oggi vogliamo fare un investimento che sia non soltanto sulla struttura balneare ma anche sulle opere pubbliche.